Nuova vita per l'area scolastica e sportiva del plesso Beltrame di via 4 a novembre a Montorso Vicentino. A modernamento è messa in sicurezza grazie ad un investimento di 1 milione 130 mila euro. Abbiamo fatto un intervento di miglioramento sismico di tutta la struttura della scuola secondaria di primo grado, la struttura si chiama Achille Beltrame di Montorso e appunto è conglobata in questo edificio anche la palestra che è stato oggetto anche lei di una sistemazione. Tra l'altro la palestra è indicata nel nostro piano di protezione civile come luogo di raccolta in caso di eventi calamitologici come terremoti, quindi appunto è anche sicura da questo punto di vista. Non solo tra i vari interventi, anche quello relativo al trattamento acustico della palestra, a norma con i criteri antincendio e sismici, al rinnovamento dell'impianto luci della palestra e del vicino campo da calcio di allenamento. Sono stati rifatti anche gli scarichi fognari interrati della scuola, la tinteggiatura delle aule e dei locali in uso alle associazioni.